Ricevendo in Vaticano la comunità Seguimi, Papa Francesco ha richiamato una loro pubblicazione dal titolo Il Vangelo senza sconti e pertanto le ha esortati a vivere ogni giorno secondo questo programma e ad essere persone decentrate da se stesse e centrate in Gesù. Tante volte ha detto il Papa anche nella Chiesa, crediamo di essere buoni cristiani perché facciamo opere sociali di carità ben organizzate, ma non dobbiamo dimenticare che la linfa è lo Spirito Santo. Saldi in lui come tralce alla vite si può andare così verso le periferie del mondo. Ricordando poi le varie forme di appartenenza e il principio della fedeltà come base di Seguimi che va al di là dei vincoli giuridici, Francesco è invitato a sviluppare la comunione fraterna con creatività, ottimismo e gioia a testimoniare il Vangelo in ogni ambiente, ad essere laici in prima linea e parte attiva della missione della Chiesa. Nel suo intervento, prima delle parole del Papa, il Cardinale Vicario Agostino Vallini ha ringraziato il Pontifice per il dono del Giubileo della Misericordia. Grazie.